Ha scosso l'opinione pubblica ad Arezzo il caso del minorenne ritrovato in coma etilico nella notte tra sabato e domenica. Adesso il ragazzo sta bene, è stato già dimesso dall'ospedale San Donato di Arezzo, ma di fatto questo ha acceso un faro su quello che accade appunto nei luoghi della Movida Aretina. Luoghi che sono presidiati anche dall'associazione Dog Operatori di Strada, un'associazione finanziata proprio dal comune di Arezzo per cercare appunto di monitorare quello che accade durante le ore del divertimento ad Arezzo. Non si può sapere perché succede questo, possono essere un gruppo di ragazzi che in qualche modo ha invogliato quest'altra bere, può essere successo che sulla rete si sono in qualche modo incontrati e hanno detto beh, vediamo un po' stasera cosa sei capace di fare e soprattutto dobbiamo pensare che ormai quello che succede in strada spesso non è altro che la continuazione di ciò che succede in rete. Il progetto degli operatori di strada è ripreso lo scorso anno quando un giovane controllato in piazza della Badia colpì con una bottiglia un agente della polizia municipale. Secondo l'associazione Dog la situazione adesso è migliorata ma i racconti dei commercianti e dei residenti invece vanno in un'altra direzione. E' di queste ore una richiesta di confesercenti di un confronto con l'amministrazione comunale per quanto accaduto in piazza Risorgimento e Via Madonna del Prato. Evidenti tracce di urina, sangue e altri escrementi oltre a carte e bottiglie di vetro. Stiamo andando avanti da tempo con azioni di prevenzione che appunto cercano di andare incontro ai ragazzi, di andare avvicinarsi ai ragazzi con un linguaggio, con una modalità di azione che sia comprensibile nel loro tra virgolette linguaggio. L'intenzione dell'amministrazione però è di continuare anche il 2023 senza soluzioni di continuità. Danno uno spaccato della città che magari è diverso anche da quello che a volte si narra. Ovviamente ci sono questi casi limite purtroppo che dobbiamo comunque andare a evitare con azioni ancora più mirate. Però ecco l'amministrazione non è stata ferma da questo punto di vista e andremo avanti. Cerchiamo anche la collaborazione chiaramente di tutti, famiglie, scuole e istituzioni perché si deve fare squadra contro questa piaga dell'alcolismo giovanile. E l'associazione Dogg nei prossimi mesi potrà contare anche sulla collaborazione di Andrea Bertocci, insegnante di breakdance. Una delle problematiche principali a mio avviso dei giovani e avendole potute osservare negli anni di insegnamento è quella della mancanza di identità del giovane. A volte purtroppo il giovane non riesce ad identificarsi in qualcosa, quindi in una figura, in un personaggio, anche che potrebbe essere un personaggio da cui si è ispirato. Di conseguenza si trova spesso a essere vittime di cose quali l'alcol, le droghe e comunque atteggiamenti che sono molto molto vicini ai social e molto lontani dalla realtà proprio per questo motivo qui. Di conseguenza la mia lotta è una lotta proprio per cercare di dare nel ragazzo, nell'allievo, un'identità che possa tenerlo lontano automaticamente per queste cose. Perché a mio avviso uno dei messaggi più grandi che si possono dare è proprio una call to action, quindi una chiamata all'azione, più che il vecchio sermone che avevamo dei genitori al tempo e che lasciava il tempo che trova. Di conseguenza è fondamentale che i ragazzi trovino una propria realtà che automaticamente gli farà sentire quel bisogno di bere, un bisogno se presente molto molto tranquillo, se non presente è una cosa naturale all'età in cui i ragazzi escono, che è un'età sempre più giovane.